Il fenomeno dell'incidentalità stradale è una priorità per questa amministrazione guidata dal professor Banfredi. Abbiamo rilevato un innalzamento statistico dei decessi a seguito di incendi stradali, prevalentemente investimenti pedoni. Il tema è la nostra attenzione. Abbiamo già adottato le misure sul lungomare con l'installazione di dossi. Sul corso Umberto è in corso un'analisi insieme all'assessore Cosenza per individuare le misure più ideone e più adeguate per ridurre e mitigare il rischio di incidenza stradale. Abbiamo una sezione infortunistica che è sul pezzo, ha una visione a 360 gradi di rischio incendio dell'età, ha individuato e ha selezionato le prime dieci strade che presentano profili di criticità e su questo stiamo lavorando insieme all'assessorato del professor Cosenza al servizio viabilità e traffico per capire, istruire e adottare le misure più idonee per garantire una mitigazione del rischio di incidentalità.